musica 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 sei pronta? io sono pronta e tu? anche io ah musica musica ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi avremo contenuto diverso dal solito e infatti oggi apriremo una mystery una mystery buona oggi ci siamo siamo in compagnia di caterina, carlotta e io, ciao ragazzi ci teniamo a ringraziare una nostra amica che ci ha fatto una mystery boss personalizzata e si trova dietro l'altra casa ciao chi parte? veri cosa sarebbe? un gioco per x un gioco per x ok questo è un gioco per il mio gatto ragazzi 5 sono una cosa eh mamma oddio è bellissimo il colore a me piace eh bravo questo è il topino topino cross-top e dietro ci sono tutte le strisce la nostra amica ha pensato di per non litigarci perché siamo molto positive di scegliere anche le stesse cose quindi Cate diventeremo gemelle non vi copiate nooo senza eh? cos'è? eh la mia nuova macchina fotografica e si apre oh un bianchetto oh Cate non lo aspettavi no nuova Canon EOS M100 nooo Cate alla punta di un bianchetto aspetta questo mi piace ok dei portafogli ferro fermafogli e a forma di diamante tu che hai paura di qualcosa no no l'ho ancora guardato non è che ho visto i guardi nooo che carine nooo no vabbè ma cosa sono? gomme va bene va bene va bene va bene va bene un costumino eh? la prova? la prova? costume costume? apri ma non mi lo incontri ma non mi lo incontri ma non mi lo incontri ma non ho capito trama? che a me è capitato vedi che tu non devi fare la tette vista che sta fatta che che ha qualità ma no vabbè io ho detto tu hai un bianchetto allora il problema è che lei le tette le ha le tette le ha le tette devono crescere ancora no le tette le sopra tirano su questo è un bianchetto non c'è la pubblicità eh non c'è cioccolatino agenda gialla allora questa è una piccola agendina con anche le pagine tutte colorate questo mi ha fatto un bianchetto americo strano ma che piazza che svolgita vabbè questo è bello fuoristirolo oggi ho trovato questo pezzo di fuoristirolo cercate un altro l'aprite insieme ah ok va bene sei pronta? cambia insieme chiulino stop cosa sarà mai? vado ragazze no allora come dicevi tu no gira Kate ok apriamo? ok vai vai dai veri ce la puoi fare vai 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 veri veri il pubblico è dietro aumentato comunque ok vai 3 2 1 vai hai malato un po' bello è la misura che dà cambia i colori rimangono uguali i colori rimangono uguali sarà questo queste penne direi che sia stop ragazze alla thumb si vede bene? però poi dici io danni vai mia vabbè dopo lo facciamo è bellissimo i colori tastandosi bello bello mi piace quindi abbiamo trovato anche vai altri dolcetti ah 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 e dicevamo questi sono due braccialetti da dividere bestie and oh scusate stai andata nel bagno qui abbiamo vari anelli che anche questi ci divideremo quelli a mezzo dico ok non c'è ah non c'è ah chi sta chi sta no no sono carini ce ne sono alcuni in particolare che vabbè poi dopo ce li divideremo tutti noi adesso andremo a votare quello che abbiamo avuto un voto che potrà confermare o ribaltare la nostra classifica con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato mi raccomandola come date anche voi bene ragazzi io direi che questo video però ci posso concludere qui e spero che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale e non ti sentite lasciate un like e iscrivetevi al canale e non ti sentite e non ti sentite con veronica con la ca ciao 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 ciao